Ivex 2017, siamo alla terza edizione di questo evento che dopo Barcellona e dopo Cannes è arrivata a Roma. Ci troviamo nei corridoi di questo micro salone allestito in concomitanza con questo evento e siamo con Nezar Abu Amam, il direttore generale Italia di NIAX che intanto invitiamo a salutare. Benvenuti a tutti, siamo NIAX, Nezar Abu Amam, direttore generale, come sempre, siamo sempre presenti qui su qualsiasi evento per il vending, il cashless per il vending, come abbiamo anche abituato a tutti i clienti e tutto il mercato che abbiamo una bella scelta dei prodotti che si cercano o si avvicinano proprio al mercato globale. Ecco, allora spieghiamo intanto, ricordiamolo quantomeno agli amici sull'altra parte, che cos'è NIAX, che cosa realizza e soprattutto che cosa avete presentato al popolo del vending europeo qui a Ivex 2017. Ecco, NIAX è un prodotto completo di sistemi di pagamento, però non è un prodotto normale, ma un prodotto molto speciale perché NIAX oggi con tutti i suoi prodotti che dal mercato, c'è le richieste del mercato, NIAX, che porta tutto in Israele, elabora questo prodotto e dopo esce al mercato con tutte le richieste e le soluzioni fatte per queste richieste. Facciamo sistemi di pagamento sia con carta di credito, applicazioni, prepaid, carte prepagate, bancomat per il mercato italiano, quindi facciamo tutto il tipo di pagamento. Inoltre facciamo anche un sistema di telemetria che praticamente il 98% di tutte le macchine vending lavorano con il nostro sistema di telemetria, dove come sempre abbiamo fatto vedere che non solo prendiamo l'informazione della macchina, ma elaboriamo anche sul server nostro tutti questi dati per far vedere anche che non è solo un numero che prendiamo, ma facciamo vedere anche un prodotto, dove se c'è un cliente che ha bisogno per esempio di sapere quanti prodotti ha consumato entro fine del mese, noi facciamo vedere che questo prodotto ha consumato di più, questo del meno, quindi poi anche c'è un sistema che si chiama BI, che questo sistema fa vedere che addirittura le tue esigenze, cosa vuoi? Io ti faccio vedere anche questo sistema. Quindi attraverso la BI, la Business Intelligence, voi riuscite a generare un sistema di statistiche avanzato in grado di poter aiutare in modo davvero concreto il gestore? Chiaro, con il BI oggi abbiamo fatto un'allaborazione dei dati, ma non solo dei dati che arrivano della macchina, ma anche i dati che arrivano dalla carta di credito, dai consumatori, dai tempi, giorni, addirittura facciamo per ore come sta andando il consumo, così il cliente finale può anche dividere anche i suoi prodotti per queste ore e per questi tempi. Bene, e allora Nizza, per chiunque desideri avere maggiori informazioni senza alcun impegno, a quale indirizzo di posta elettronica può scrivere? Allora, può scrivere sempre a nezzar.chioccioranaiax.com e giuseppechioccioranaiax.com, ci può parlare tranquillamente quando ha bisogno. Giuseppe, è Giuseppe Canonaco che è il, diciamo, il tuo collega che si occupa del commerciale qui in Italia. È l'Operation Manager e il Pre-Sales anche. Bene, e allora, noi nel frattempo ci vedremo a Venditalia 2018, nel corso della quale certamente avrete da presentare qualche altra novità. Voi, nel frattempo, avrete modo di leggere e sapere di più di questo prodotto attraverso la rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica e vendingnews.it, il portale italiano dedicato alle informazioni sul vending. Lizar, grazie. Grazie a voi e benvenuti sempre in Aex. Grazie per l'ospitalità, amici. Noi continuiamo con le nostre interviste per documentarvi attraverso telecamera e microfono tutto ciò che viene presentato qui a Ivex 2017. Restate con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.